La socialitas è il secondo cardine dell'umanesimo civile. Tradotto con socialità, società civile, la socialitas rimanda a uno scambio, a una reciprocità, ed è piuttosto evidente come anche i generi letterari prediletti dagli umanisti, siano lettere o dialoghi, implichano uno scambio. Ciò ci consente di capire che lo scambio, la socialitas, è la dimensione fondamentale della vita comunitaria all'interno della quale lo scambio va naturalmente inteso come rapporti tra concittadini. Leonardo Dobruni sottolinea che tra gli insegnamenti morali necessari per formare ed educare la vita dell'uomo, il posto più alto spetta quegli insegnamenti che riguardano in senso stretto gli stati e il loro governo, perché soltanto questi insegnamenti donano felicità a tutti gli uomini. Da ciò si capisce che la politica è intesa dagli umanisti in senso platonico, in quanto ricerca del bene, non individuale, ma comune a tutti gli uomini, a tutti i cittadini, dunque contesto civico, ma anche bene che si estende a tutta l'umanità in senso generale. L'umanista è fermamente convinto che quanto più il bene si estende, tanto più divino può essere considerato. L'uomo di per sé è debole, soltanto tramite la società civile riceve quella compiutezza e quella perfezione che non possiede, da cui l'importanza di studiare e comprendere le discipline che hanno come oggetto la città, lo stato e i rapporti sociali, in modo che la società si conservi sempre nella sua essenza. La scienza fondamentale delle cose umane è per Bruni la politica, da cui l'importanza che per gli umanisti riveste la socialitas, intesa come comunità cittadina, ma ovviamente sono compresi anche i concetti fondamentali di famiglia e patria. Leonardo Bruni scrive Una vita di Dante, autore che viene fortemente rivalutato dagli umanisti in quanto padre della socialitas umanistica, poiché, sebbene Dante fosse vissuto nel Medioevo, ha comunque combattuto per un ideale a Campaldino e ha lottato per Firenze, facendosi così portatore di una grande passione civile. Per quanto riguarda l'ideale di Libertas, possiamo riportare il discorso ancora una volta su Coluccio Salutati, che vedeva la libertà fiorentina esattamente come gli atteniesi della polis democratica vedevano la libertà, oppure come i romani della Roma repubblicana interpretavano lo stesso concetto. Molto incisivi al riguardo sono i passi di Coluccio Salutati contro la tirannide, che dal punto di vista sociale non può che essere la peggiore nemica della comunità. Anzi, i cittadini sono tenuti a considerare il tiranno come un fuorilegge e se necessario devono combatterlo fino alla morte, in quanto, essendo il tiranno un delinquente, quest'ultimo mette in pericolo la comunità medesima. La comunità si regge infatti sulla legge e se la volontà di un tiranno si impone, di fatto essa rompe l'armonia della legge e quindi il vincolo della comunità, della città e un tale atto assolutista, va sempre respinto e represso, perché la libertas è strettamente legata alla socialitas. La socialitas è possibile solo se esiste la legge. La convivenza civile come bene supremo è possibile perché esiste una legge che regola la vita cittadina e i rapporti umani, così come l'eredità del diritto romano ha insegnato. Essendo il tiranno un attentatore alla libertà civica è anche dannoso per la legge, in quanto rischia di mettere in pericolo la socialitas, da cui il dovere etico di combatterlo con tutte le forze. Un altro tema fondamentale dell'umanesimo è la dignità dell'uomo e naturalmente la centralità che l'uomo occupa nell'universo. Questa centralità è stata teorizzata in maniera molto precisa e dettagliata in Giannozzo Manetti, vincitore di un contesto letterario molto speciale. Per sollecitazione dell'umanista Giovanni Pontano, Alfonso d'Aragona indisse una gara con tanto di premio per chi avesse scritto un testo sulla dignità e l'eccellenza dell'uomo. Il migliore scritto ovviamente sarebbe stato premiato. Giannozzo Manetti partecipò a questo certamen e scrisse un'epigrafia alla sua opera che cita agere et intelligere, ovvero agire e capire, binomio in cui l'azione precede la teoria secondo la tendenza alla prassi tipica dell'umanesimo. L'uomo è grande soprattutto per ciò che realizza dal punto di vista concreto, perché solo così gli esseri umani possono sempre costruire nuove realtà, ergendosi a loro volta a secondi creatori. Lo scritto di Manetti sulla dignità e sull'eccellenza dell'uomo sarà infatti fondamentale per il passaggio al secondo umanesimo, quello più maturo di Marsilio Ficino e di Picco della Mirandola.